Via al piano vaccinale delle Marche dedicato alle persone di età superiore agli 80 anni. Dalle ore 14 di domani, venerdì 12 febbraio, si si potrà prenotare sul sito delle poste o telefonando a un numero verde. Le vaccinazioni cominceranno in tutta la regione Marche dal 20 febbraio e dureranno circa 20 giorni. Cambia però la sede di Pesaro. I vaccini non saranno somministrati alla Vitre Frigo Arena, dove già si era effettuato lo screening di massa. Una location che è stata infatti reputata inadatta per la popolazione anziana. Si faranno invece al centro sociale 900 Monaldi delle quartiere Celletta. Questa la decisione arrivata oggi dopo un sopralluogo effettuato dagli assessori comunali Enzo Belloni e Mila Della Dora assieme ai dirigenti dell'Asur. Nella sede della Celletta confluiranno non solo i cittadini ultraottanteni di Pesaro, ma anche quelli di Gradara, Gabice, Tavuglia, Montelabate, Vallefoglia e Monbaroccio. Le altre due sedi designate che somministreranno i vaccini al resto della provincia sono il Codma di Fano e il Pala Carneroli di Urbino. Il tutto nonostante sia stata inoltrata al governatore Francesco Acquaroli una richiesta ufficiale da parte di 14 comuni dell'Unione Montana del Montefeltro che invocano una logistica più idonea alla loro viabilità. Vaccini che si inseriranno in uno scenario incerto della pandemia, vista l'ipotesi al vaglio di Acquaroli di creare microzone arancioni per contenere alcune situazioni di contagio più preoccupanti, al momento però circoscritte nell'Anconetano. Intanto il report odierno del Servizio Sanitario Regionale parla di un 11% di incidenza fra tamponi e contagi. Ieri si era al 12%. 530 i contagiati su 4.527 nuove diagnosi per 6.685 tamponi totali. In provincia di Pesaro Urbino si sono rilevati 118 nuovi contagi, 8 invece i decessi registrati nella giornata di ieri. Per quanto riguarda la prevenzione nelle scuole è emerso un solo contagiato fra gli alunni sottoposti ai tamponi di massa nella scuola di Via Fermi, la prima scuola primaria ad effettuare uno screening fra i suoi studenti.